Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! avrei voluto incastrare un altro video fra la prima e seconda parte di Lidl ma non ci sono riuscita oggi vi faccio vedere le altre cosine che ho preso ma ahimè sono stata sfortunata perché non ho trovato tutto quello che mi serviva parto innanzitutto a lasciarvi un'immagine qui dei sofficini Findus che sono in offerta fino a domenica vi dico anche il prezzo 2 euro e 89 è una confezione da 5 io al supermercato vicino casa mia anche se è un supermercato grande è un gruppo VG i prezzi comunque sono elevati e trovo sempre unicamente la confezione da 4 allo stesso prezzo non in offerta quindi quando vado da Lidl che sono in offerta io li prendo e anche perché è un lusso che mi concedo visto le varie intolleranze che ho e allergie quelle poche volte che sono in offerta ne approfitto e li prendo non so se anche voi avete i supermercati dove trovate la confezione da 5 invece che di 4 fatemelo sapere io li trovo sinceramente è un'offerta che non bisogna lasciarsi scappare poi ho trovato visto che altre cose che mi servivano non c'erano ho trovato questi maritozzi tondi e vi dico subito il prezzo a 1,79 euro e voglio vedere se sono quei paninetti che realizzava mio padre quando aveva la pasticceria ed erano dei panini dolci sicuramente non saranno identici a quelli lì tipo pan brioche però voglio voglio trovarli e sono il reparto pane pane panettieri d'italia anzi sapete che vi dico li apro e li provo allora li ho aperto e vediamo la grandezza a me sinceramente sembrano panini all'olio però io adesso provo una parte vediamo come sono sembrano panini all'olio atto che maritozzi vediamo non sono male sono un po' secchi questi vanno mangiati soltanto mettendoci qualcosa dentro tipo la marmellata una crema spalmabile però come sapore è dolce ma non sembrano i panini dolci che intendevo io ma sembrano più che altro i panini all'olio dolci sta provando anche Iro sembra che Iro gradisse sì però hanno un retrogusto di vaniglia quindi non sarebbe male da spalmarci qualcosa all'interno poi ho trovato le mie amatissime fette biscottate scusate ma io la sto mangiando perché vista l'ora ho trovato le mie fette biscottate preferite io solo queste mangio a 1,29 euro c'è poco da dire sono buonissime, fragranti sono buone come biscotti solo che sono fette biscottate io felicissima che le trovai nella degusta box se non erro di gennaio adesso non mi ricordo e comunque queste saranno il mio spuntino più che colazione io ci faccio lo spuntino faccio lo spezzafame tra un pasto e l'altro me ne mangio una al massimo due e per finire ecco perché io sono ritornata di giovedì da Lidl non entro neanche nell'inquadratura ho preso questo distruggi documenti a soli 15 euro questo va messo sopra a dei cesti dove dobbiamo tagliare la carta distruggere i documenti appunto che sia squadrato o rotondo a me serve perché ho tanta carta da distruggere soprattutto quei documenti che scadono una volta all'anno non quelli che scadono ogni 10 anni ovviamente e quindi 15 euro 14,99 euro ne avevo veramente bisogno e magari faremo un video dove lo proverò con voi vediamo anche all'interno com'è dovrebbe avere penso l'attacco di corrente non l'attacco usb niente quindi sono stata un po' più sfortunata questa volta però i panini mi sono piaciuti li avrei preferiti leggermente più morbidi però comunque questa settimana è andato così ho già preso le offerte per la settimana prossima neanche la settimana prossima ci sono cosine veramente utili ah è un'altra cosa se vi fa piacere io magari vi farò un video dove vi faccio vedere tutti gli strumenti che io ho acquistato gli strumenti gli accessori gli strumenti per lavorare che io ho acquistato ogni volta che ci sono state delle offerte da Lidl soprattutto perché io sono una creativa e devo dire che Lidl mette veramente delle offerte interessanti adesso c'è anche il multipack dei colori acrilici ad olio ad acqua per chi ama la pittura per chi ama dipingere penso che sia anche un buonissimo risparmio sui prodotti per dipingere se questo video vi è piaciuto aspetto un vostro like un vostro gradito commento grazie ancora per il supporto che mi date se volete iscrivete ai miei profili instagram che vi lascio sempre all'inizio del video e ci vediamo al prossimo grazie ancora ciao ciao ciao